Musica Ben trovati i telespettatori di TV6 all'appuntamento con le previsioni meteorologiche per giovedì 17 novembre. Per l'osservazione della mappa del tempo medio per l'Italia possiamo notare che avremo fenomeni di stabilità soprattutto lungo le regioni tirreniche, mentre lungo le regioni adriatiche avremo tempo generalmente più stabile. Nel dettaglio, al mattino sull'Abruzzo avremo condizioni di cielo nuvoloso, poco nuvoloso su gran parte del territorio regionale. La ventilazione risulterà deboli dai quadranti meridionali e mari generalmente calmi, mentre le temperature risulteranno in generale omecito. Nel corso del pomeriggio le condizioni meteorologiche continueranno a risultare stabili su tutto il territorio. Il sole splenderà lungo la fascia costiera e collinare, mentre sul versante occidentale della nostra regione avremo condizioni di cielo nuvoloso accompagnato da una ventilazione principalmente occidentale. Nel corso della sera le condizioni meteorologiche risulteranno ancora stabili su tutto il territorio con i cieli che si presenteranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo aggiornamento. Nel corso della sera le condizioni di cielo dell'ultimistri Nigro